Nuovo appuntamento, siamo a LITIS con la Scuola di Educazione Civica, allora Dottor Tenti prosegue questa iniziativa con i ragazzi sempre più coinvolti. Prosegue a mio parere con successo e chiaramente questo fa contento me che non vorrebbe dire niente, ma spero che faccia, diamo qualche insegnamento a chi ci ascolta, cioè ai ragazzi in presenza e anche a coloro che volessero eventualmente seguirlo in tv. Stamani si parlerà di sociologia, dirò alcune cose sui fondamenti del pensiero sociologico, parlerò dell'insegnamento e poi parleremo delle campagne elettorali dal punto di vista sociologico. Cioè si tratta di individuare quelli che sono i fondamenti scientifici e oggettivi di un pensiero comune, di un pensiero che riguarda l'intera società a prescindere dalla posizione politica che le singole persone hanno. Se però la scuola, in senso lato, quindi il dirigente scolastico provinciale, i presidi delle varie scuole fossero ulteriormente interessate, per noi sarebbe un piacere incrementare il numero delle lezioni. Più si sviluppa questa materia, più si spera di fare dei cittadini, dei ragazzi che ascoltano, dei cittadini coscienti.